Nei primi sei mesi del 2022 sono state oltre 3 milioni le prestazioni ambulatoriali garantite dalla ASDA di Bari. Si tratta di 2 milioni e 573 mila prestazioni di laboratorio analisi, 293 mila 872 visite specialistiche, 166 mila 640 di radiologia, 21 mila dei service e 43 mila 670 prestazioni di dialisi. I dati stimano che fino alla fine dell'anno ne conteranno 6 milioni e 600 mila, numeri simili al 2019, quindi al pre-pandemia, quando furono 6 milioni e 576 mila. Nel 2020, con l'avvento del Covid, sono passate a 5 milioni, mentre nel 2021 c'è stata già una ripresa con 6 milioni e 165 mila prestazioni effettuate. L'accelerata è dovuta principalmente a due fattori, ha spiegato il direttore generale Antonio Sanguedolce. In primis, negli ultimi due anni c'è stata una riduzione dell'offerta, anche perché si adottavano misure come il distanziamento e altri accorgimenti, mentre ora, in epoca post-baccinale, siamo tornati a un'attività ordinaria. A questo si aggiunge il progetto regionale di incremento per le prestazioni ambulatoriali e di ricovero, che prevede un impegno da parte dei medici dell'ASL di Bari con ore aggiuntive. Per esempio, in totale, tra maggio e giugno, sono state erogate 6.200 prestazioni ambulatoriali aggiuntive rispetto alle agende ordinarie. L'obiettivo dell'ASL ora è quello di incrementare l'offerta istituzionale e combattere le liste d'attesa. In Puglia, a marzo, si contavano 350 mila visite, esami, interventi e screening da erogare, ma resta il grave problema del personale medico insufficiente. Quindi non basta solo un intervento massivo della regione per finanziare prestazioni aggiuntive del pubblico e del privato. Il ricorso alle prestazioni a pagamento nelle strutture dell'azienda è del 3%, al di sotto della media nazionale, pari al 9% secondo i dati Agenas. Pagare per una prestazione deve essere una libera scelta, non dettata da una condizione di necessità, dice Sanguedolce. Dall'ASL di Bari, il 97% dell'attività è garantito attraverso il canale istituzionale, ossia coperto dal servizio sanitario pubblico.